Vorrei discutere in questo video sulla velocità della luce e sul fatto che sia possibile superarla e anche in che modo sia possibile superarla. Io qui vi ho mostrato, disegnati, tre raggi di luce. Essi viaggiano sempre alla stessa velocità, anche se la frequenza è diversa. Sono onde più o meno lunghe e frequenze più o meno fit. Noi poi useremo questo modo per arrivare a vedere alcune di queste onde quando la frequenza cade all'interno delle quantità che noi riceviamo. Ebbene, che rapporto c'è? Intanto, qual è la fisica di queste onde? Esse, secondo voi, oscillano su e giù all'interno di questo piano? No, non sono così. Sono delle eliche. Il movimento è elicoidale. E, essendo elicoidale, voi che lo vedete di fianco, lo vedete appiattito in questa proiezione laterale. quando voi vedeste questa onda stando in questo punto e osservando secondo l'asse dello spostamento, voi assistereste ad una rotazione. Sarebbero gli elettroni che vedreste girare. Ruotare proprio. Ma, gli elettroni, se sono tali da memorizzare una bolla elettrostatica messa in questa condizione, poiché tutto evolve in questo verso, nella durata del tempo che esiste lì, si memorizza una spirale, perché la visione assume la prospettiva proprio di un qualcosa che parta dal punto di fuga di quella condizione e arrivi fino al punto di fuga opposto. Per esempio, quello che è percepibile nel tempo, insomma, immaginando che il tempo sia sempre quello e che sia quindi qualcosa che potremmo individuare come uno spazio di questo avvantamento, noi, se questo è il tempo che si fissa sullo spessore della bolla, noi vedremo delle spirali più o meno ricche di giri. Qui vedremo un piccolo pezzo di spirale, qui ne vedremo un po' di più e qui ancora un po' di più. Ebbene, qual è la differenza sostanziale che esiste qui? è che la particella che ruota cambia la frequenza proprio della rotazione in relazione alla velocità fissa della traslazione. Perché è fissa la velocità della traslazione? Capite bene che non può essere qualcosa che è legato alla dinamica circolare della particella. Perché se la lunghezza percorsa fosse sempre in un rapporto preciso con quella intera circonferenza percorsa, noi avremmo sempre onde della stessa frequenza. E invece, come vedete, la frequenza varia a seconda proprio della quantità di movimento secondo questa linea. E allora, da che cosa può dipendere il fatto che la luce è costante? Dal nostro essere osservatori, il nostro essere osservatori praticamente ha una sua durata di presenza nella sua osservazione. Ecco, questo tempo qui è il tempo che l'osservatore impiega ad avanzare nel tempo della sua presenza e trova e trova un fenomeno in sé che di per sé ruota e presenta proprio anche una sua dinamica diversa dalla dinamica soggettiva. Perché? La differenza è proprio questa. se noi immaginiamo che noi vediamo uno a uno ogni alto e ogni basso ed è la nostra velocità questa onda qui che noi vediamo sempre nello stesso tempo invece per conto suo gira di più e noi la vediamo presente in più rotazioni che in quella che è la nostra presenza. è per questo che noi riusciamo poi a vedere onde aventi frequenza diversa proprio perché questa velocità nel tempo è la nostra ma esistono tutte le possibilità di un diverso rapporto tra la rotazione e la traslazione delle onde. in sostanza se immaginiamo che una rotazione è una sorta di giroscopio queste particelle che girano così si sposteranno si orienteranno secondo la perpendicolare al piano della rotazione e si muoveranno in relazione a questo asse noi possiamo immaginare di vedere proprio dei giroscopi qui che a seconda della traslazione e del loro modo di rapporti relativi poi dal tempo nostro che è sempre costante dell'osservazione per cui un certo tratto è percorso sempre nello stesso tempo e noi lo vedremo sempre nella stessa velocità avanza di più o di meno perché qui è più lento infatti essendo più lento più lento o più veloce secondo voi è più veloce perché questa velocità è tale che nel tempo della nostra percezione non ha fatto soltanto questo movimento qui ma ha fatto molti giri quindi a mano a mano che le onde si infittiscono abbiamo una particella che ruota più velocemente nel rapporto relativo tra la sua rotazione e il suo avanzamento al limite se una particella ruotasse e basta noi qui la vedremo come una massa assolutamente piena così si ammassa nella natura la massa ossia è presente tante volte nel tempo in cui noi osserviamo che possiamo immaginare che una particella che ruoti in tutti i modi e percorrerebbe come la superficie di una matassa che avvorta da tutte le parti visto che il nostro tempo durevole rispetto a quel movimento a quel numero di giri è tale che la massa ha percorso proprio tutto il possibile ingombro della superficie noi la vedremo come una sfera piena mentre in effetti non è altro che una grandissima quantità di rotazioni che sono intorno a nulla però riempiono uno spazio e noi avremmo l'impressione di fotografare un atomo e vederlo pieno mentre invece quel pieno è solo dato dalla quantità di presenza di quella rotazione nel tempo della nostra percezione perché ripeto si è talmente infittito il numero di queste rotazioni che in sostanza è come se avessero riempito interamente una sfera studiamo un po' meglio l'effetto del giroscopio perché per quello che voglio dire io in relazione alla possibilità di superare o no la velocità della luce è importante studiare l'effetto di un giroscopio il giroscopio è quello strumento che usano in marina quando devono avere una idea esatta del piano orizzontale rispetto alle linee di attrazione gravitazionale perché il giroscopio in sostanza si mantiene sempre mentre accade la rotazione in un modo tale che la rotazione determina un piano di rotazione che è perpendicolare alla gravità terrestre quando voi mettete una specie di trottola in questi termini e la sua velocità è grandissima questa trottola sarà esattamente perpendicolare col suo piano quando invece il rapporto tra la rotazione a seconda del rapporto relativo la componente comincia a risentire molto di questo piano orbitale tanto che come vedete nella trottola tante volte la trottola comincia a girare e percorre proprio una inclinazione e così è anche nel caso della perna perché la rotazione della massa terrestre che è attorno al suo asse terrestre dovendo raccordarsi con la rotazione intorno al sole che ha un altro piano a seconda della condizione proprio del numero di giri che esistono qui e del numero di giri che esistono nell'anno ne risulta un precisissimo angolo qui perché è appunto legato al fatto che la rotazione della massa terrestre non è grandissima rispetto alla durata dell'anno se questa rotazione aumentasse più aumenta la rotazione più questo angolo tende ad essere l'angolo retto e quando noi avessimo un rapporto tanto grande nella rotazione qui da essere sproporzionato nei confronti dell'anno voglio dire se la terra che impiega 365 giorni per compiere un anno invece di 365 giorni ne avesse 10.000 giorni rispetto a un anno noi avremmo che la rotazione dell'asse terrestre sarebbe la stessa rotazione intorno al suo anno quindi che cosa possiamo concludere noi che a mano a mano che il numero di giri qui è più grande rispetto al numero di giri della rotazione impropria perché qui la terra ha una rotazione propria e poi ha una rotazione impropria attorno al sole a mano a mano che i numeri della rotazione propria aumentassero rispetto a quelli della rotazione impropria noi avremmo che tutta la massa peso si è proprio messa e disposta tutta su un piano tanto che si caratterizza soltanto diciamo da questa forma qui di azione quella perfettamente verticale ed è in sostanza quello che succede in tutte le onde di cui ci stiamo occupando la rotazione delle particelle attorno a loro asse è tanto più veloce rispetto alla loro traslazione che data una rotazione abbiamo che la massa è percepibile solo in questo verso della propagazione dell'onda mentre invece in questo piano noi non abbiamo assolutamente massa abbiamo soltanto l'apparenza di fotoni di luce perché tutta la massa si orienta nella direzione perpendicolare al piano della rotazione ora che cosa succede che se noi andassimo a misurare la massa qui vedremmo che il fotone non ha massa proprio a massa insignificante ma se noi potessimo agire su quella massa dell'elettrone che sta passando qui e c'è potessimo spingerla in questo verso una minima forza esercitata in questo verso avrebbe in sostanza quasi nessuna risposta da parte della massa di questa particella perché tutte le linee che sono parallele a questa linea tutte hanno tutte la stessa direzione vanno tutte come linee parallele a un unico punto di fuga collocato all'infinito e noi potremmo con una forza minima intervenire sulla massa minima di questa particella elettrone massa che ripeto la avvertiamo solo quando ci trovassimo in questa posizione qui ma che però esiste e agendo in questo piano noi avremmo che una massa reale secondo il principio di azione e reazione che cosa ottiene la legge generale della reazione è tale che se noi abbiamo una certa massa qui e lanciamo una massa piccola in questa posizione noi esercitiamo una spinta su questa massa in un modo che sia uguale e contraria alla spinta di questa ora vedete e capite bene che se questa massa reale qui è piccola rispetto a questa massa la spinta che questa massa riceve è piccolissima ma se questa massa è quella che io vi ho rappresentato qui e questa spinta qui è data da questa e si ritrova non la massa in questo fotone ma praticamente nessuna massa questa sollecitazione espressa in questo verso lanciando una massa reale in questa posizione avrebbe l'effetto di produrre una accelerazione praticamente infinita se questa arriva addirittura a essere zero praticamente noi non avremmo spostato nulla perché non avremmo deviato questa direzione ma l'avremmo semplicemente fatta traslare la direzione sarebbe stata la stessa anche quando si fosse spostata qui o qui perché la direzione non è la giacitura di una linea è il fascio di tutte le parallele aventi la stessa direzione questa direzione per esempio è l'asse x e tutte le parallele all'asse x hanno la stessa direzione ecco allora qual è il modo reale per ottenere un risultato assolutamente vantaggioso nei confronti di una navetta spaziale che noi volessimo mandare a ottenere una velocità superiore a quella della luce il metodo è questo attuale la legge del giroscopio ossia indurre una massa per esempio immaginiamo che questa qui è la navetta spaziale in modo che essa giri velocemente in questo modo proprio come un giroscopio allora che cosa fa questa massa è costretta a tenere la sua perpendicolarità al punto nel quale si esercita proprio la sua componente di massa che è un raggio infinito ora se tutta la massa è esercitata solo in questo verso e facendo ruotare moltissimo questa particella in sostanza noi abbiamo massa zero in questa posizione ecco che basterebbe una minima spinta in questo verso qui perpendicolare a questo e noi avremmo come risultato che con una piccola massa noi avremmo un risultato eclatante in questo verso qui perché come ho cercato di farmi capire con parole semplici quando noi ingeneriamo una rotazione così dividiamo automaticamente la massa di questo corpo ad essere zero nel piano della rotazione e tutta quanta espressa solo nel piano che è perpendicolare al piano della rotazione quindi se essa è zero nel piano ecco che una forza esercitata nella linea del piano se questa è una forza reale è in grado proprio dato il fatto che questa ha massa tendente a zero di avere un risultato assolutamente vantaggioso cosa che non accadrebbe se questa rotazione non esistesse e allora se questa rotazione non esistesse noi avremmo che la massa di questa particella è tutta quanta concentrata lì in un punto quello del baricentro vedete quando la massa in pratica è ferma tutta si sintetizza nel baricentro a mano a mano che noi cominciamo a farla girare questa massa si orienta tutta in questo verso e se si presenta tutta in questo verso si rende sempre inferiore fino a essere zero nel piano della rotazione e a quel livello basterebbe anche una minima spinta di una massa reale lanciata in una direzione per produrre un effetto di una accelerazione grandiosa come se la massa proprio rispetto a questa fosse infinitamente più piccola e noi andremmo ben oltre la velocità della luce senza peraltro far sì che a mano a mano che questa massa si sposta ha cambiato qualcosa nei confronti della fuga delle verticali che fin quando il piano è dato dalle verticali tutte le verticali vanno verso un unico punto all'infinito e quindi in sostanza non c'è nessuna variazione in questo verso questo vi spiega perché quando voi giocate in un prato con il frisbee e prendete questo frisbee e lo fate girare e lo scagliate avete chiaramente l'idea di questo frisbee che vola in un piano se invece non lo tasse basterebbe un minimo di aria che prende sopra o sotto si rovescia e cade invece il semplice fatto che gira lo tiene sempre parallelo al suolo e quelle forze che potrebbero inclinarlo non ci sono più perché la rotazione genera una forza prodigiosa che costringe sempre in quel piano parallelo alla terra e a quel punto il frisbee vola e per avviare una massa alla velocità della luce bisogna attuare lo stesso effetto del frisbee prendere una navetta introdurle una grande rotazione e poi sollecitarla secondo il piano della rotazione noi avremmo la sorpresa di accelerazioni spaventose proprio perché la formula della forza che dice che la forza uguale la massa per l'accelerazione quando la massa diventa quasi zero che cosa succede? noi potremmo prendere questa massa e metterla nell'altro lato qui dire che la forza per l'unità della massa determina una grande accelerazione ecco ma quando noi la massa in pratica nel piano tangente l'abbiamo resa piccolissima tutta la forza si mette come puro effetto di un'accelerazione sconfinata senza alcun limite ecco io vi ho dato delle idee grossolane io ho descritto una fisica come la può capire uno che non usa le formule che si riferisce a degli esempi così che conosci in natura appunto come il frisbee ma tutte queste cose che vi ho spettato io vi ho detto possono essere formulate in matematica e essere poste in atto e avremmo la sorpresa che dalla teoria si possa passare alla pratica e un giorno avere una grande capacità di spingere è la stessa cosa che costringe una pallottola di un fucile a andare dritta quando la camicia del fucile nell'interno è rigata e la pallottola uscendo è costretta a girare l'effetto giroscopio dato alla pallottola le impedisce di deviare ecco questo nostro stesso mondo dinamico ci può orientare su che cosa fare in modo opportuno per poter superare la velocità della luce di Grazie.